dopo aver fatto negli scorsi video il dritto e il rovescio con l'uncinetto tunisino oggi vediamo come fare il punto coste 2 a 1 come vedete viene abbastanza simile a quello fatto con i ferri questo è il davanti e questo è il dietro del lavoro come al solito ormai chi segue questi tutorial dell'uncinetto tunisino lo sa vengono un po più spessi quindi l'uncinetto tunisino ha un tipo di lavorazione che rende il il capo insomma quello che il prodotto un po più spesso di quello invece lavorato con i ferri però comunque l'effetto è veramente carino questo comunque vuol dire che eventualmente per fare un maglione bisogna utilizzare un filato più sottile ed eventualmente un numero di uncinetto più grande in modo tale che il lavoro non sia troppo spesso e quindi vada ad ingrossare troppo la figura comunque ecco questo è il risultato anche se si stira un po facciamo finta se si indossa appunto se si fa un pulsino di un maglione questo è l'effetto almeno con questo filato e con l'uncinetto che io ho utilizzato il numero di uncinetto che ho utilizzato comunque andiamo a vedere come si fa perché poi potete fare delle prove e vedere qual è l'accoppiata spessore del filato e uncinetto che vi piace di più ho utilizzato questo questo filato che è un filato con cui ho fatto un maglioncino in qualche tutorial fa e l'uncinetto che utilizzo è del numero 6 mi pare che il filato era indicato di lavorare con l'uncinetto 5 o 5 e mezzo mi sembra non ne sono sicura perché comunque è un avanzo e non ho più l'etichetta comunque se volete potete andare a vedere qual era l'uncinetto indicato per questo filato andando a vedere l'inizio del video tanto il filato immagino lo riconoscerete comunque metto il link nell'info box altri due link che dovete andare a vedere se non vi ricordate due video che dovete andare a vedere è proprio quello della lavorazione a dritto e della lavorazione a rovescio con l'uncinetto tunisino che sarebbero il punto rasato con i ferri lavorato con i ferri oppure il punto a rovescio appunto fatto sempre con i ferri e andiamo quindi a fare adesso il punto a coste 2 e 1 intanto abbiamo un numero di catenelle sull'uncinetto tunisino multiplo di 3 quindi il punto a coste 2 e 1 si lavora con un multiplo di 3 io adesso giusto per farvi appunto vedere ne avvierò 12 quindi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 e come sapete io adesso vado veloce i primi il primo giro di andata e ritorno si lavora sempre allo stesso modo quindi adesso insomma lo faccio senza stare a soffermarmi più di tanto e se qui la velocità della lavorazione ma sto andando lenta perché c'è la telecamera ma se la velocità della lavorazione è troppa andate a vedere i video tutorial precedenti sull'uncinetto tunisino e faccio adesso il giro di ritorno cioè il giro, sì, il ritorno del primo giro mi intuiccio sempre quando parlo dei giri dell'uncinetto tunisino ecco qua ok, adesso cominciamo il giro di andata e poi di ritorno che poi verrà ripetuto per tutta la lunghezza desiderata desiderata insomma del lavoro che dobbiamo fare quindi il primo punto che andiamo a prendere appunto è il secondo la seconda linea verticale è un rovescio quindi faccio il rovescio come sappiamo si fa il rovescio le prossime due maglie invece le lavoro a dritto poi faccio un rovescio e vado avanti così per tutto il giro quindi sono due maglie lavorate a dritto e una maglia lavorata a rovescio dritto, dritto e rovescio quindi la penultima è sempre a rovescio e l'ultima maglia si lavora come sappiamo prendendo la verticale davanti e la verticale dietro e lavorandola sempre a dritto e poi faccio il giro di ritorno che è sempre lo stesso quindi la prima maglia la lavoro singolarmente e poi a due a due ok adesso facciamo anche il secondo giro insieme ma in pratica questo che abbiamo fatto si ripete come vi dicevo prima per tutta la lavorazione dunque continuiamo sempre lo stesso modo quindi la prima maglia è sempre un rovescio quindi riprendo la prima maglia e faccio il rovescio e poi ho due dritti quindi dove c'è il dritto lavoro il dritto dove c'è il rovescio lavoro il rovescio ora c'è il rovescio lavoro il rovescio due dritti e poi il rovescio lavoro il rovescio lavoro il rovescio lavoro il rovescio lavoro e ora il rovescio che è la penultima maglia e sempre l'ultima devo andare a lavorare prendendone due insieme e lavorandole ok e poi faccio il giro il ritorno del secondo giro ecco qua adesso anche con quest'altro filato faccio un altro pezzettino e ve lo faccio vedere ecco qua ho lavorato un altro pezzettino con quest'altro tipo di lana quindi ecco questo viene in questo modo qui viene così quindi dipende ovviamente anche dal tipo di lana che utilizzate io ho utilizzato due tipi di lana diversi come vi dicevo prima ma ho utilizzato sempre lo stesso uncinetto del numero 6 e niente anche questo video è finito ci vediamo al prossimo video e vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto di commentare e di seguirmi negli altri social grazie e a presto